Hungry Hearts Caro, vedi se in frigo c'è rimasto un po' di gaspaccio alle ortiche, il piccolo ha fame Questa che ho davanti è la ioseride con questi fiori arancioni quindi è anche abbastanza riconoscibile Si fanno sia cotte che crude, in un'insalata, in una misticanza si stanno molto bene Il titolo del film non è una metafora ma è letterale, i cuori sono affamati perché qui non si mangia niente Quella di questa sera sarà la cosiddetta psico-cena, cioè cena della psiche Mina, mamma vegana più salutista di Michael Jackson, crede di poter avere uno swiffer che cattura tutte le impurità del mondo Ma c'è poco da fare, in casa i virus li porta il naso grosso come un citofono del marito Il pamphlet è allargato a meraviglia dei grand'angoli dove perdono tutti, i vegetariani e anche quei presuntuosi dei carnivori Macelleria Rinaldi, chi parla? Meritata la coppa vulpi ai gemelli dell'avocado, Rohrbacher e Adam Driver Stop